Musica Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. Rapina a mano armata nella filiale intesa San Paolo dell'ospedale dell'Ellis. Paura nel primissimo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, un uomo avvolto coperto, aiutato dalla mascherina anti-covid e vestito di scuro, si è introdotto nella banca armato di pistola e ha minacciato i tre dipendenti all'interno per farsi consegnare quanti più soldi possibile. A quanto risulta il bottino però non è stato ingente, con l'uomo che si è poi dato alla fuga con poca moneta sottratta alla banca dell'ospedale. Nessun cliente all'interno della filiale durante il colpo. La rapina, durata pochi minuti, è avvenuta in un orario in cui all'ospedale c'è il cambio di turno delle ore 14. Dunque più persone, soprattutto medici, infermieri e amministrativi, transitano in zona e avrebbero potuto notare il rapinatore. Indagano i carabinieri di Rieti, ascoltati i dipendenti della banca sotto shock ma illesi, titolari delle attività vicine e alcuni passanti. Visionate le immagini delle telecamere, si cerca un uomo vestito di scuro con una mascherina blu che potrebbe aver fatto qualche centinaia di metri a piedi prima magari di prendere un'auto e di leguarsi. Si cerca di capire inoltre se l'arma fosse vera o una replica. La pandemia, sono 6.628 gli attuali positivi al covid nel reatino. Nell'ultimo bollettino 270 nuovi casi e 235 guariti al tampone di controllo. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.049 test nei vari drive-in della provincia. Scendono i casi anche nel capoluogo, il totale va a 2.114. I guariti anche oggi superano i nuovi casi e si registra un calo dell'incidenza rispetto allo stesso giorno di una settimana fa. Sono 1.865 i casi in meno, ha detto con uno sguardo sul Lazio l'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato. Torna la stagione teatrale al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Nel cartellone ideato da Comune e ATCL con il sostegno di Regione e Ministero della Cultura, tanti volti noti dello spettacolo. Apre l'Ello Arena il 12 febbraio con Parenti Serpenti. Il 26 invece l'Enrico IV di Pirandello con Sebastiano Lomonaco, un abitué del Flavio. E poi l'11 marzo Paola Quattrini con Oggi è già domani. E l'8 aprile Carlo Bucci Rosso, che scrive e dirige l'opera, porta in scena a Rieti la rottamazione di Un Italiano per Bene. Paola Gasman e Ugo Pagliai il 19 maggio chiudono con Romeo e Giulietta una canzone d'amore. Su rietilife.com i prezzi degli abbonamenti e le modalità per ritirarli. La fiera mondiale del peperoncino di Rieti potrebbe durare anche sette giorni. Già lo scorso anno avevamo pensato di ingrandirla, speriamo di poter essere più liberi e vorremmo coprire via Roma, il Ponte Romano e Piazza Cavour, nonché via Varrone. Sono le parole di Livio Rositani, patron del peperoncino, ospite nella puntata disponibile stasera dall'Eventuno su Rietilife TV della Rana nel Pozzo, la trasmissione condotta dal direttore di Rietilife Emiliano Grillotti. Per il 2022 si tenta il colpo sul palco della fiera per quanto riguarda gli spettacoli. Dobbiamo aspettare la fine di Sanremo, ha detto Rositani, ma ho già chiesto di attenzionare due, tre cantanti importanti e due sono a Sanremo. Uno, posso dirlo, è blanco, sì, vorrei portarlo a Rieti. Lo sport, il basket, sorride la NPC che ha vinto il derby contro la Sebastiani quasi sulla sirena, 66-64. La NPC ha guadagnato così anche la Final 8 di Coppa Italia. Mercoledì scorso, non è pala soggiorna il pieno, si è visto, ovvero basket, è anche un tifo che è tornato a gioire e appungolarsi nel pieno spirito di una stracittadina che mancava in campionato ma che si era vista in Supercoppa. Domenica si torna a giocare in campionato sia per la NPC che per la Real Sebastiani. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che torna domani, come sempre, alle 20.45. Continuate a seguire il nostro network con rietilife.com in cima, ovviamente, sempre aggiornati i nostri social Facebook e Instagram e nei punti di distribuzione e nelle edicole aderenti sfogliate rietilife Free Press. È gratuito, buona serata. Grazie a tutti, grazie a tutti.